Salve a tutti e benvenuti a voi che vedete questo video. Mi chiamo Francesca e tra le varie altre cose, per chi non mi conoscesse, sono un'insegnante di Neidan, cioè di Alchimia Interna Taoista, qualunque cosa questo significhi. Include comunque anche alcune meditazioni e pratiche che sono più conosciute ad alcuni tipo il Tai Chi Suan e Qigong, cioè il lavoro con l'energia, ma è molto più di questo. Così, in ordine sparso, non sono solo questo, ma mi piace, che so, insegnare e capire di matematica, sono molto curiosa. Questo video, comunque sia, lo faccio come inizio, come inizio di una serie, forse, di video in cui voglio raccontare delle storie particolari che mi sono accadute proprio personalmente. Poi voi decidete se sono invenzioni, se sono matta, se sono cose fattibili. A voi non mi affendo il giudizio, anche perché probabilmente non lo saprò in ogni caso. Ma le voglio condividere perché probabilmente sono importanti, perché probabilmente potrebbero essere importanti per condividere il fatto che la vita può avere tante, tante sfaccettature. Lo fanno in tanti, ognuno a modo suo, con le proprie storie, con le proprie opinioni, eccetera. Questa storia, mi scuso se forse diventerà un po' lunga, ma magari potete vedere il video a pezzi, però è meglio raccontarla insieme, se no forse non ha molto senso. Ed è una storia fatta di tante altre piccole storie di come io poi abbia deciso di convertirmi all'ebreismo. Io non sono nata ebrea, sono nata in una famiglia in cui mia madre è ancora, grazie a Dio, cristiana, anche molto praticante. Mio padre no, è un libero pensatore. E la storia comincia proprio da lì. Comincia da lì perché quando io ero piccolina, uscivo con mia madre, quindi deve essere prima che andassi all'asilo, cioè prima dei tre anni e mezzo, quando si va all'asilo, qualcosa del genere. Insomma, uscivamo a fare la spesa, anzi, lei usciva a fare la spesa, io ovviamente uscivo con lei, e lei si fermava in una chiesa a ritorno. per pregare, per fare una preghiera, qualche cosa. E io mi ricordo che giocavo con le candele, mi piacevano, anche adesso mi piacciono le chiese dentro, con tutte queste statue che mi sembravano enormi. Allora è carinissimo ricordarsi le cose di quando eri piccolo. Tutto ha un formato diverso. Tipo, che so, la balaustra arriva sopra la tua testa, la statua è quasi tipo grande quanto una persona, in realtà ovviamente in questo caso no, non lo erano. E eccetera, eccetera. E insomma, mi ricordo che giocavo con la cera delle candele. Un giorno mi venne in mente di chiedere a mia madre che cosa facesse lì. E lei mi disse, sto pregando. Sto pregando. E che significa pregare? Che cos'è pregare? Diceva, beh, sto parlando con Dio. Io avevo una vaga idea di cosa fosse questo Dio. una cosa, qualcuno, qualcosa probabilmente molto buono. Ho seduto lì, su, in cielo, da qualche parte. Forse, però effettivamente non me lo immaginavo come persona, fortunatamente. E allora, mi sembrava una cosa interessante. Scusate, mi sta entrando qualcosa nell'occhio. E le ho chiesto, dico, ah, bene, allora come si fa a parlare con Dio? E mia madre mi rispose, certe volte, le risposte illuminate che vengono dall'universo. Dice, beh, noi grandi, noi adulti, abbiamo delle preghiere, cioè ripetiamo delle parole che abbiamo imparato, eccetera. Voi bambini siete privilegiati, questa è un'idea abbastanza cristiana, per cui potete parlarci quando volete e come volete. Ah, bene. Io ero in quell'età in cui le cose sono vere perché l'ha detto la mia mamma, ok? Ci passiamo tutti, credo. È indubitabilmente vero perché l'ha detto così mia mamma, ok? Per cui credo che questo sia stato il mio unico atto di, in ebreo, si dice, emunash elema, cioè di completa fede, almeno di cui io mi ricordi. E allora dico, ah bene, allora, ma bisogna parlare ad alta voce? Lei mi fa, no, non si può parlare anche da dentro. E io silenziosamente rispidissi, ciao. No, non chiesi niente riguardo il significato dell'universo o altro. Era così che mi rivolgevo quando ero bambina a altre persone, no? Quindi, ciao! E mi arrivò un ciao indietro. Cioè, mi arrivò in realtà una bellissima luce che adesso percepisco come luce, comunque una sensazione di calore, di abbraccio, di presenza e di bene, di voler bene, non di bene come il bene, ma di voler bene assoluto. Che mi fece molto piacere e non mi stupì affatto, l'ha detto la mia mamma. E da allora in poi, Dio divenne per un bel po' di tempo il mio migliore amico ed interlocutore. Tipo vent'anni dopo ho scoperto che parlare il colloquio con il divino è una tecnica di meditazione parecchio seria, usata, cioè usata, suggerita in varie tradizioni. Per esempio, nella tradizione cristiana, credo, Sant'Ignazio. Nella tradizione chassidica, definitivamente, sicuramente almeno Rabbi Nachman. e che altro c'è, me ne erano venuti in mente qualcun altro. Comunque sia, il colloquio con il divino è una tecnica meditativa, effettivamente. E io non lo sapevo, ignorante ma contenta, così ho fatto per un bel po'. E nascondendolo, perché mi sono resa conto praticamente subito che nonostante questa, e questo sarà soggetto di altri video, nonostante idealmente incoraggiato la preghiera, il contatto con il divino, eccetera, se uno poi dice che effettivamente ti pigliano per matto. E almeno nella tradizione in cui sono cresciuta io, in altri paesi no. Quindi, in segreto. Però, così è stato per molto tempo. E qui potete fare una pausa, rivedersi il video un'altra volta, eccetera, perché questa è una storia già di per sé. Però, vorrei continuare, perché sennò le altre non hanno, cioè, alcune delle altre non hanno molto senso. Diciamo che facciamo un salto dai 3 ai 16 anni, più o meno, in cui, 14-16 anni, in cui questo colloquio con il divino non mi sembrava più così reale. Si era un po' inquinato, probabilmente sono cresciuta io, non era più un colloquio con una persona, anche perché mi riusciva molto difficile vedere Dio come una persona, sicuramente non come un qualcuno seduto da qualche parte lì su nel cielo, anche se questa era più o meno l'immagine che nella chiesa, sì, sì, ho fatto tutto il catechismo, oppure la cresima ho fatto, pensai tu, eccetera, trovandomi sempre non particolarmente d'accordo con alcune cose. Tra cui, ecco, questa è una storia che si salta indietro di nuovo, tra cui l'esistenza di un nemico di Dio, che poi era pure un angelo caduto. Quindi quando, e questo credo, a quel punto già andavo all'asilo, me lo ricordo questo, e stavo così in cucina a disegnare figurine con le stecchini, no? La testa a tondino, poi le braccia così a stecchino, eccetera. E non so, mia madre mi raccontò la storia appunto di Lucifero, Angelo caduto, eccetera, io scoppiai a piangere, proprio non si poteva proprio, ma come, ma come, ma se chiede scusa? Dice, ma quello è il diavolo, non chiede scusa. Ma perché non chiede scusa? Potrebbe chiedere scusa. Cioè, se può fa, può chiedere scusa. Dice, ma no, cioè, quello è il signore dell'inferno. Ma no, ma quello era un angelo, cioè, è un angelo. Ma neanche se chiede scusa, davvero, davvero. Insomma, mia madre si è dovuta, poverina, reinventare la teologia cristiana, se poi è teologia cristiana, dubito. E così su due piedi, comunque sia. Dice, beh, se chiede davvero scusa, è accettato. Eh, meno male. Sollievo. Benissimo. Quindi, diciamo che questa cosa del Dio e qualcos'altro già non mi andava giù. Da molto piccola. Ritorniamo verso, appunto, i 14-16 anni in cui io a un certo punto ho deciso adesso non so più se mi sto immaginando sta cosa tipo l'amico immaginario oppure è una cosa reale. Quindi, caro amico, ti scrivo io adesso non ti... caro Dio io adesso non ti parlo più perché non sono sicura se mi sto inventando tutto o no. se tu vuoi parlarmi, chiama. Ok, se può di. Da amici, da amici, da sedici anni di amicizia. e così feci. Dopo una settimana non ne potei più, proprio. Cioè, non... una settimana da... da provare ad essere ateo malissimo, proprio. come se il mondo non avesse... non avesse più vita. Allora, ho detto, vabbè, sì. Allora, ok, d'accordo. Dio personale no, ma qualcosa c'è. siccome nel frattempo con altre storie che racconterò altre volte, forse comunque sì, ero già una... ero già in contatto con il buddismo da tempo con la meditazione orientale da tempo cioè da quando avevo sette anni, più o meno anche prima e... taoismo l'avevo appena approcciato però mi piace tantissimo dico, vabbè, passiamo a una visione impersonale e... e andiamo così. E così è stato fino a... fino a... facciamo un altro salto in avanti nel tempo fino ai 25 anni, più o meno in cui mi ritrovo in Thailandia a fare un corso di istruttori per diventare istruttori di Neidan cioè di Alchimia Interna Taoista al Tao Garden con Mantaccia posto dove io ho conosciuto tantissime bellissime persone e una persona in particolare che ho amato molto anzi che amo ancora moltissimo anche se adesso non è più qui in corpo fisico per essere un morto molto presente però non è più nel suo corpo fisico con me per lo meno e... che si chiama? chiama, chiamava Shalom guarda un po' un ebreo americano che si trovava in Thailandia per lavorare con Mantaccia e... a cui io voglio moltissimo bene proprio tanto e... un giorno la mattina molto presto io... molto presto significa prima dell'alba decido di andare all'alba a fare una meditazione in un posto vicino al Tao Garden il Tao Garden si è situato tutto un lago artificiale dalla diga dal lago artificiale si può vedere la valle dove è il Tao Garden Chen Mai che è lì vicino e questa foresta meravigliosa con queste montagne a picco di quelle che vedi proprio nei disegni dei cinesi esistono sono così ci sono da quelle parti sono bellissime e il sole sorge da lì dietro io volevo vedere il sorgere del sole e fare la mia meditazione mattutina lì infatti mi sono alzata e andata lì sopra e trovo Shalom lì che anche lui sta preparandosi alla sua meditazione ciao che bello anche tu hai avuto la stessa idea benissimo da bravi taoisti ci mettiamo nella nostra posizione di Shikung per fare questa meditazione mattutina separatamente uno rispetto all'altro vicino abbastanza probabilmente cominciamo e io sento da lui ecco perché queste storie sono collegate quell'abbraccio che ho sentito nella chiesa con mia madre porca la miseria e che sta facendo e vabbè poi basta cioè poi continuiamo la nostra meditazione bellissima eccetera finiamo e io gli chiedo allora ma tu all'inizio della meditazione ma che stai facendo e lui mi fa diciamo probabilmente le stesse cose che stai facendo tu facciamo un corso insieme abbiamo studiato le stesse cose più o meno e io proprio no quella era una vibrazione diversa stai facendo qualcos'altro e lui mi guarda un po' strano dice no cioè non so non credo io insisto vedo che lui si sta un po' scocciando giustamente a un certo punto gli faccio no c'era ci metto proprio tutta l'energia perché non riuscivo a spiegare cavolo era questa cosa c'era un zut diverso e lui si illumina ah è vero stavo recitando lo shema e io e che roba che cos'è lo shema scusa e diceva è una preghiera ebraica all'inizio della meditazione ho cominciato con lo shema e io benissimo ogni volta che fai lo shema chiamami però questo da un punto di vista taoista i taoisti non hanno un concetto di peccato assolutamente non c'è proprio perché non c'è niente di giusto o sbagliato anche se ci sono cose morali eccetera per altri video ma non ci sono cose giuste o sbagliate se non in relazione ad altre ok siamo taoisti però una cosa ci sono alcune regole diciamo alcune cose che ti avvicinano al sentiero del taoismo al tao e una di queste è che se puoi fare una cosa per te da te stesso non ti appoggiare ad altri cioè non essere un vampiro fondamentalmente soprattutto quando si tratta di cose energetiche diciamo per cui la mia richiesta in realtà non era praticamente molto corretta al che gli faccio dico beh senti ma questa è una preghiera ebraica dico va bene allora ma dico ma io come come farei eventualmente e lui mi fa dice beh prega sì va bene io non ho non ho un indirizzo perché nel frattempo eravamo comunque scesi ritornati verso il Tao Garden era ora di fare colazione immaginatevi un lago con una pagoda sopra una colazione fantastica cibo organico coltivato lì vabbè mi manca allora arriviamo lì e ci troviamo di fronte a un piatto di varie insalate frutte eccetera quello che volevamo prendevamo e lui mi fa mi dà una risposta molto ebraica però non lo sapevo che era una risposta molto ebraica e lui mi fa scusami io non lo so non so pregare cioè che dovrei fare e lui dice beh allora prega di imparare a pregare e io me lo guardo dentro di me ho pensato proprio dico dunque gli tiro il piatto lo prendo sul serio e ho deciso di prenderlo sul serio tanto ormai e allora il pomeriggio sono ritornata nello stesso posto così perché mi ispirava e perché comunque sia c'era una buona energia cioè lì era successo questa cosa mi volevo ricollegare a questa cosa e ho fatto praticamente quello che mi ha detto lui cioè non ho espresso nessun nessun nessuna richiesta ho espresso un desiderio di comunicare praticamente messo una bottiglia e lanciato al nulla così senza senza destinatario e e e la risposta di nuovo è arrivata è arrivata con una carezza con una risposta dagli alberi dalla dall'acqua del lago dal profumo dei fiori dal dal brillare del cielo e ma non come cose come cose separate tra di loro come cose che hanno una loro essenza una loro personalità tra l'altro questo non è strano nel taoismo magari sarà strano per alcuni occidentali ma insomma e con gli alberi ci parlavo già da tempo insomma quello non era strano e il il la cosa bella era era l'armonia la sinfonia cioè come dire se fossero tanti strumenti però sai che vengono da c'è un unico compositore diciamo che però è anche lo strumento gli strumenti la cosa figa è questa e wow bellissimo ok dobbiamo ripensare al al progetto religione eccetera eccetera non mi sono non ho pensato di convertirmi all'ebraismo il giorno dopo neanche quel giorno ci ho messo in realtà quattro anni da da quella volta per decidere la conversione e nel frattempo nel frattempo mi sono andata a rivedere la la religione cristiana dove ero nata perché saggio fare cioè sei nato da una parte vai a vedere da dove vieni e incontri molto belli e anche con dei sacerdoti molto più intelligenti e più aperti di quelli che avevo per il catechismo diciamo però non fa per me e poi ho iniziato a frequentare la comunità ebraica a Roma dove vivevo con molte belle esperienze e vivevo a quel punto da sola quindi vegetariana quindi chi se ne frega se potevo fare l'ebrea quanto volevo senza essere ebrea senza senza convertirmi quindi e non lo vede a nessuno beh sì forse qualcuno qualche super ortodosso ebraio forse non avrebbe molto in simpatia questa idea ma a me non me ne importava ma praticamente molto e quindi non avrei avuto particolare motivo per proprio per la conversione se non che sempre appunto energie 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 e in moltissime tradizioni ci sta ci sta quello che si chiama un'iniziazione cristianesimo per esempio la cresima cristianesimo scusatemi il cristianesimo cattolico ok nel buddismo ci sono dei voti da prendere nel taoismo tutt'altro ma c'è infatti ero in Teherandi appunto per ricevere questa anzi per ricevere un'iniziazione a insegnare che poi è pure diversa la cosa comunque fatto anche quello e mai lasciato il taoismo tra l'altro eccetera eccetera è così è un modo è un modo per cui uno sì è vero l'universo se ti vuole dare delle se ti vuole dare dei doni te li dà comunque sia però c'è anche c'è anche tutta la storia la storia le storie l'energia la vita di chi ci ha messo la vita in in una tradizione in un in un flusso di energia e io quello volevo come collegamento che per l'ebraismo è la conversione all'ebraismo per cui decisi di convertirmi all'ebraismo io volevo convertirmi all'ebraismo ma poi tanto per cambiare appunto come per il cristianesimo non esiste effettivamente la conversione all'ebraismo ti puoi convertire come dagli ortodossi ti puoi convertire dai dai riforme conservative eccetera eccetera non si sono messi d'accordo su una che valga per tutti oddio un po' ci stiamo arrivando comunque vabbè diciamo scelgo quella ortodossa uno perché Roma solo quella c'è che uno si va a infilare una comunità che poi non ne fai parte e poi ho finito per vivere in Israele quindi vabbè e e due perché comunque sia diciamo l'ortodossia anche se io proprio la parola ortodossia mi viene string gel lo stomaco come minimo perché praticamente significa quelli giusti cosa che è proprio fuori dalla mia da ogni mia concezione e però diciamo ha preservato molta della struttura antica e io questo altri video comunque l'idea di struttura proprio anche fisica che per reggere qualcosa mi è ben chiara forse forse sono orgogliosa a dire mi è ben chiara comunque sia insomma un po' d'idea di questa dell'importanza di questo ce l'ho quindi la volevo studiare per lo meno e dal momento in cui ho preso la decisione al momento in cui poi sono riuscita a convertirmi non è proprio stato la stessa cosa ma questa è un'altra storia anche lì piena di abbastanza piena di cose molto particolari cose molto veramente molto particolari che però lascerò per un altro per un altro video o per altri video perché sono storie divertenti forse sono storie belle comunque sono storie per me vere sono comunque successe poi la mia interpretazione il mio racconto è mio e e forse possono possono così ispirare altre persone a seguire la propria via assolutamente non a convertirsi all'ebraismo questo proprio non c'entra niente con il motivo di questo video il motivo di questo video era perché volevo condividere che condividere il fatto che noi tutti probabilmente abbiamo delle storie che non ci sogneremo mai di raccontare o solo ai propri amici eccetera tutti zitti in segreto perché chissà che cosa possono pensare e o non ci sogneremo mai di sognare questo è un po' brutto però però sognare va fatto e va fatto e va fatto ma insomma è meglio farlo e volevo condividere proprio questo un abbraccio a tutti chiunque voglia scrivere nei commenti scriva nei commenti quello che gli pare possibilmente senza insulti non so perché dovrebbe generare insulti questo video però possibilmente senza insulti grazie se no grazie comunque e a presto buona settimana a presto a presto a presto Grazie.